Amici di Quarta Parita, eccomi qui davanti al Teatro 2 di Roma, qui a Vicolo dei Domicelli, a due passi da Piazza di Spagna, insieme a Daniele Savelli, che saluto. Buonasera Daniele, per parlare di uno spettacolo che sarà in scena sabato 2 marzo alle ore 21, che si intitola essenzialmente Rino, musica, parole e sogni d'anarchia. A questo punto è abbastanza semplice pensare a Rino Gaetano. Daniele appunto sarà sul palcoscenico, insieme alla sua band, che prevede lui alla chitarra e alla voce, insieme a Roberto Petruccio, al pianoforte, tastiere e fisarmonica, al basso elettrico Umberto De Santis, alle percussioni, al cajon Paolo Persico, con le scenografie di Alessandro e Cristiano Savelli tutto in famiglia, tutto in famiglia, mi sembra giusto, e ci sarà anche un attore che sarà Roberto Pasetto. Allora, questo ricordo di Rino che comunque continua a rimanere nella nostra memoria, no Daniele? Sì, Rino rimane vivo, è come se fosse vivo. Esattamente. E io poi lo ricordo particolarmente perché... Mi dicevi che poi tu l'ho conosciuto. L'ho conosciuto sconosciuto e quindi era così, era uno della nostra comitiva e veniva nella piazzetta di Montesacro, dove c'è questa grossa comitiva anni 70. Dove tra l'altro ogni anno si celebra, no? Ogni anno lì in piazza Sempione c'è il Rino Gaetano Dei. Perfetto. Dove vengono quasi 30.000 persone. A Santa Maria è venuto, certo? Sì, sì, ho partecipato nel 2017, ho cantato una canzone di Rino insieme a uno dei nipoti di Rino Gaetano. E quindi veniva, dicevo, in piazzetta con la chitarra, ci faceva sentire le sue canzoni e quindi era proprio alle albori. Che ricordo hai di Rino? Ma è un ricordo che era... Sempre un po' così scansonato. Sì, però era una persona semplice. Ma però molto profonda mi pare, no? Molto profonda ma semplice e poi lui aveva scritto già da ragazzino tante cose, proprio piccolo era. Quindi era un ragazzino prodigio quasi. Secondo me sì, era un fuoriclasse. Era un fuoriclasse, aveva una marcia in più. Una bella testa, secondo me sì, una marcia in più. Senti, secondo te la canzone che più la rappresenta, qual è secondo te? Secondo me la canzone che più lo rappresenta è una canzone che poi citerò nello spettacolo, alla fine quasi, che è una canzone che è stata scoperta dopo la morte di Rino. Sì. Che però secondo me lo rappresenta a 360 gradi perché si chiama I miei sogni d'anarchia. Ah, è quasi sconosciuta. Sconosciuta? Rispetto a quelle più... Sì, è un demo quasi, è un demo casalingo registrato con pianoforte e voce da Rino, però lo rappresenta perché Rino non apparteneva a nessuna etichetta. Sì, era un po' ed effetto era proprio un anarchico, no? Secondo me sì, infatti lo spettacolo si chiama Essenzialmente Rino perché noi eseguiamo delle canzoni essenziali, diciamo, non è proprio il repertorio classico, commerciale di Rino, ma quindi anche i sogni di Rino e quindi i sogni d'anarchia. Senti, avrei letto, sentito che ci sono state tante leggende metropolitane sulla morte di Rino, no? Addirittura che era in viso al sistema, no? Cioè si diceva anche questo, però fondamentalmente è solo casualità, insomma. Sì, sì, solo casualità, no, no, assolutamente no. È stata quella maledetta sera, no? È stata la maledetta sera che poteva capitare a qualsiasi ragazzo di quell'età con la macchina che c'è un incidente. Solo che era Rino Gaetano e quindi, però quello capitano. Che era giovanissimo. Era giovanissimo, c'era 30 anni, c'era una Volvo, una macchina, così, asbandato. Quindi nessun complotto. Ma per carità, per carità, per carità, per carità, no, 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 assolutamente no. Addirittura che era stato attenzionato, no? Sì, 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 facciamo un po' ridere questa cosa, insomma, poi addirittura un cantante... Sì, ma infatti proprio non esiste proprio. Senti, un autore come Rino, tu pensi sia ancora attuale? Secondo me sì, sarebbe anche... Ci vorrebbe uno come lui. Eh sì, secondo me è attualissimo. E direbbe ancora tante cose. Sì, e poi i testi sono attualissimi, quindi ancora adesso. Oh, tra l'altro diciamo che questo spettacolo ha vinto un premio l'anno scorso. Allora io con il tour che ho fatto insieme a Matteo Persia, che è l'autore, biografo della biografia di Rino, che ha fatto nel 2018, abbiamo girato un po' tutte le biblioteche, un po' tutte le librerie d'Italia, siamo stati anche a casa Sanremo nel 2018 per i 40 anni di Gianna. E quindi poi dopo sono stato premiato con il premio Anna Magnani per questo tour Rino Gaetano. E infatti con questo premio... A Cinecittà? Ho effettuato, ho realizzato un videoclip con una canzone mia, scritta da mio fratello, su Rino Gaetano, che omaggia Rino Gaetano. Bene, allora ricordando l'appuntamento, sabato 2 marzo, ore 21, qui al Teatro 2, qui alle nostre spalle, Vicolo 2 Macelli 37, Piazza di Spagna, Daniele Savelli, chiedo scusa, essenzialmente Rino, musica, parole e sogni d'anarchia. Sul palcoscenico Roberto Petruccio, Umberto De Santis, Paolo Persico e l'attore Roberto Pasetto. Daniele grazie mille. Grazie a te. E buon Rino. Rino sempre. Rino tutta la vita. Sempre Rino, sempre Rino vive comunque. E quindi vi aspetto, vi aspetto sabato, sabato al teatro. Grazie Daniele. Grazie a te. Grazie. Arrivederci, a presto. Arrivederci.